Ciao a tutti, con questa proposta di legge ridefiniamo gli ambiti di ineleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari. Che cosa abbiamo previsto, grazie anche all'esperienza ingiunta per le elezioni, di decidere che non sia più solo la Giunta di Camera e Senato organo politico a valutare l'ineleggibilità e l'incompatibilità dei parlamentari, ma che si possa far ricorso anche alla Corte Costituzionale per una maggiore garanzia. Abbiamo previsto anche ulteriori dettagli per quel che riguarda l'ineleggibilità, andando più sullo specifico rispetto a quella che è la previsione del DPR del 57, quello che fino ad oggi non ha garantito l'ineleggibilità, quindi la degadenza di Berlusconi, e una previsione molto stringente sulle incompatibilità, in maniera che deputati e senatori siano obbligati ad optare o la carriera elettiva o le posizioni che ricoprono. Abbiamo poi aggiunto le sanzioni, cioè tutti i deputati e senatori che nascondano o mettano una posizione di incompatibilità e ineleggibilità saranno sanzionati. Dateci una mano a non modificare e migliorare questa PDL. Grazie.